Ecco Zavai me l'ha ispirato un vecchietto e mi raccontava che aveva questo sogno ricorrente che lui sognava di volare e mentre volava la gente lo salutava con la mano mentre lui passava sopra le case chi mi ha detto chi se sto sted a stè ha io della voce con tutti i re e voleva che l'era un piacere la tradizione è una cosa meravigliosa ma se fai il museo fai il museo sono due cose diverse e io non faccio il museo cioè che parti dalla tradizione però ci aggiungi qualcosa ma per forza ma per forza sarebbe come io se facessi video di aver ascoltato i Rolling Stones ma no concetto fondamentale è innovazione continua ma nella tradizione innovare e mantenersi tradizionali io avevo ascoltato Pino Daniele da ragazzino proprio da avevo 15-10 anni che sono andato a sentire il primo concerto con Pino Daniele che anche lui aveva fatto il primo disco all'epoca e quindi mi era chiarissimo che c'era un percorso da fare ognuno con la propria terra così saluterà con ombra grossa e con la mano noi siamo contro la burocrazia del gusto perché fece di un fiore signora soppuntai aveva fatto contadè